Allora, Presidente, nuova stagione per la squadra del KT Basket che milita in serie A2, sarà una stagione, si spera, senza pandemia, con obiettivi e nuovi traguardi da raggiungere? Assolutamente sì, facciamo come amministrazione un applauso al Presidente Marchesani e alla società tutta. Sarà una stagione importante perché importanti sono stati gli sforzi compiuti dalla società. Noi come amministrazione siamo costantemente vicini alle attività del KT Basket, implementando, come abbiamo fatto nel corso della scorsa stagione sportiva, la piena fruibilità del Palatricalle e favorendo appieno lo svolgimento dell'attività della squadra. Inoltre, quest'anno, proprio per condividere un percorso di diffusione nella città, appunto, di quelle che sono le geste dei giocatori, ma di quello che è il progetto, perché, lo diceva prima, in serie A2, la squadra è un riferimento non soltanto della nostra città, ma dell'intera regione. E tutta una serie di iniziative che, come amministrazione, insieme al nostro sindaco e insieme al nostro vice sindaco, andremo a favorire anche per organizzare, in maniera coaiuvata con il KT Basket, una serie di iniziative che sono volte a rafforzare un concetto nel quale crediamo fermamente, che è quello dello sport, quale veicolo di inclusione, quale veicolo portatore dei sani valori da diffondere sempre di più nella società e nelle nuove generazioni, ecco perché avvieremo dei percorsi anche all'interno delle scuole e dell'associazionismo giovanile. Grazie.